Tu costarai solo il video La logica La logica Potremmo vedere il maggiore Il maggiore 7 ma è troppo... Happy Allora per me Non mi piace il maggiore Allora la cosa più interessante Ti metti la diesis suddicesima Serebbe la quarta diesis Serebbe mi Però con la coscienza della settima Con la settima ti metto la diesis Per dire che... Siccome il video è la quarta diesis C'è un bravo Sentiamo che la scala Quindi abbiamo visto che il Si bevole di video E' un fa maggiore Quindi però partiamo... Vediamo con una scala nuova Quindi prima Seconda La sua maggiore Quarta a mezzata Sentirei la differenza La differenza Con la quarta giusta Con la quarta giusta Quarta giusta è Prudica Questa è la scala maggiore Invece lì E' più colorato Ha un diverso colore Giusto Blender? Si Tu lo sai Ok Ok Quinta giusta Tu sai che ti so io Maggiore Maggiore E ritorniamo alla fine Prima Seconda maggiore Terza maggiore Quarta giusta Quinta è tutti Quarta metà Giusta Sessa maggiore Senti maggiore Quindi sentiamo la scala Ma se fosse la scala maggiore E' brutta E' brutta Ti piace? No? Ti piace? Allora resistiamo Guardi 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 Oppure, per rendere più distante, si può pensare un po' la sonata bassa, un po' di... Un po' più pianissimo, però un po' più distante l'idea. Un po' più interessante, è rendere a chi ascolta qualcosa di imprevedibile, perché se lui fa... facciamo un'altra volta, se tu fai proprio i noti... Puoi già sapere che tutto è così. Poi si fa... gioco un po' con le furie ritmiche, un po' di rendere imprevedibile la cosa. Ancora? Il discorso della stella di prima. Questa cosa sembra quasi un sax, no? realizzate. Ok, allora... Qualche domanda? No. Qualche domanda? Allora, adesso proviamo... Affrontiamo la cosa... diciamo più difficile della musica jazz, è che l'Armenia questo discorso lo devi fare ogni momento, ti cambia, cambia, come se cambi il nome. Poi sei Frank, poi sei John, capito? E tu devi essere musicale, altrimenti si cambi, giusto? Allora, facciamo questi due accordi, facciamo... Torniamo a Re-7, e faccio tutto questo accordo. No, Re-7, no, bravo. Allora, Re-7 l'abbiamo affrontato prima, e... Metti quest'altro accordo. Allora... Che accordo è? Lo sai? No. Parlando, questo è un accordo dominante di settima, poi con la quinta aumentata. Quinta aumentata. Allora, in questo accordo qua, ci sono due possibilità. Io ho un intervallo. Allora, praticamente, deriva dalla scala minore melodica, il settimo modo, che si chiama l'alterato, molti lo chiamano superlocrian, superlocria, però mi sembra più il nome di un detersivo, superlocria, capito? Superlocria... A me piace più alterato, capite? Rende più l'idea, capito? Alterato. Che differenza ha meglio che... Questa cosa? Che differenza ha in questo modo, dal locran. Ah, dal locran normale, allora, dubito, te lo ricordo. L'alterato ha tutto quanto bemolle, quindi la parte priva, la seconda è minore, la terza è minore, poi c'è la... La qualsiasi... Il locran, il senso. Il locran, guarda, le inferze accordi. Questo è l'alterato. Il locran qui si fa. È l'accordo dei simili di umidità. C'è l'alterato... John, scusa. Ti puoi dire anche in inglese? Ah, ok. Anche in inglese perché sono alcuni che non capiscono. Prefetti che parli in inglese? Va bene? Ok. Ok. Aspetta per la switch. In inglese. Google Translator. Ok. Il locran, è il 7 mod di Beggio scale. Quindi, il cordo è in questo. Mino 7, flat 5. Ok. 1, flat 3, flat 5, flat 7. Il alterato. Il mod di D, è giusto di tipo di chord. È giusto di ascoltare, sui G5 o G9. È giusto di solare. Il pergine. Fa G5. C5 o G9. Fa G5.